E noi continuiamo a parlare di vaccinazioni con le dichiarazioni del Presidente della Regione Bonaccini a Modena per un incontro istituzionale, il servizio di Paolo Pini. La riduzione dei contagi in Emilia Romagna e il ritorno delle vaccinazioni con AstraZeneca sono passi importanti nella giusta direzione, lo ha detto a Modena il Presidente della Regione Bonaccini, all'incontro con il nuovo prefetto della città, Alessandra Camporota. Vergognoso il calo di consegne fatto in questi mesi dalle case farmaceutiche, il commissario Figliolo ha garantito oltre 700 mila dosi in più, l'Emilia Romagna punta a mezzo milione di vaccinazioni completate entro fine aprile in vita ad avere fiducia nei vaccini. Ieri l'agenzia europea preposta, oggi quella italiana, dicono che AstraZeneca è sicuro al pari degli altri vaccini e quindi noi dobbiamo confidare che le persone vadano a vaccinarsi anche perché si muore di virus. Ecco, volei che questo fosse molto chiaro. Originaria di Campobasso, prefetto di Rimini dal 2018 al 2020, Alessandra Camporota ha gestito l'emergenza Covid durante la prima ondata del virus nel capoluogo romagnolo. I controlli sul territorio modenese saranno mirati e selettivi. È un momento in cui i controlli debbono essere mirati e rigorosi, ma il senso civico di questa comunità mi sembra elevato. Si continua a lavorare con presidi consolidati, a differenza di quello che è successo l'anno scorso, questo è la differenza fondamentale.